Luigi Mascarone è un ebanista che possiamo definire anche con l'appellativo di pittore del legno perché la maggior parte della sua produzione a noi nota è costituita da delle tavolette linee intarsiate delle quali le nostre sono un esempio più che pregevole ma è un artista che si ricolloca in una fase cronologica leggermente più avanzata rispetto agli altri artisti che abbiamo conosciuto fino ad ora infatti la sua produzione a noi nota è databile tra gli anni 30 e gli anni 40 dell'Ottocento circa balzerà subito all'orecchio almeno lo stesso cognome di Antonio Mascarone che vi abbiamo presentato ieri purtroppo lo studio di questi artisti è ancora in fase di lavorazione anche se piace pensare o comunque può essere accolta l'idea che vi fosse tra i due tra Antonio e Luigi una relazione di parentela probabilmente si può anche avanzare l'ipotesi che Luigi fosse il figlio di Antonio proprio per il collocarsi in una fase cronologica successiva rispetto alla quale rispetto a quella nella quale Antonio licenzia i suoi mobili di Luigi Mascarone si conoscono altre due tavolette linee conservate presso una collezione privata di Karate Brianza che mostrano dei riscontri molto precisi e puntuali con le nostre ci sono sono possibili infatti dei dei confronti dei richiami molto forti soprattutto nella parte della cornice con quest'utilizzo questa attenzione al alla venatura all'utilizzo del boade violette utilizzato di di testa quindi con questo forte effetto cromatico ma anche l'utilizzo di diverse essenze tra di loro accostate in modo anche molto minuzioso per realizzare la la filettatura queste tavolette di Karate Brianza così come le nostre recano la firma di questo interpretatore Luigi Mascarone e così come le nostre nell'altra parte nella parte opposta della firma viene indicato invece il riferimento il modello al quale Mascarone si rifece per le tavolette di Karate Brianza si tratta infatti di Francesco Londonio un incisore e in queste tavolette Luigi Mascarone presenta una una si concede una maggiore libertà infatti vengono realizzate in controparte le tavolette intarsiate rispetto alle incisioni e si concede una maggiore licenza anche per quanto riguarda lo sfondo il paesaggio retrostante le nostre tavolette invece come modello di riferimento hanno Raffaello Sanzio Urbino in realtà non è indicato Raffaello ma Raffaele in un modo un po' insolito con il quale questo importantissimo artista veniva indicato nell'ottocento e infatti le nostre tavolette sono tratte da dei disegni di Stefano Tofanelli derivati a loro volta da un'invenzione raffaellesca che purtroppo non ci è pervenuta che comunque ad oggi non è non è ancora nota ebbero questi disegni ovviamente per il maestro che l'inventò Raffaello da sempre considerato uno dei sommi artisti ebbero questi disegni un'ampia diffusione grazie alle incisioni che anche qui potete vedere riproposte e incisioni alle quali probabilmente anzi senza alcun dubbio il nostro Luigi si rifece per realizzare i suoi pannelli. Ritornando a quello che dicevamo all'inizio possiamo definire Luigi proprio pittore del legno per l'utilizzo sapiente delle essenze quindi l'accostare tra di loro delle diverse essenze e linee facendo molta attenzione a quella che è la la parte cromatica per realizzare questi questi disegni anche molto elaborati e molto minuziosi. In alcuni punti il legno viene sostituito all'osso talvolta tinto anche per dare questo effetto metallico e anche una grandissima attenzione al lavoro di bulinatura come se lo stesso Luigi si trasformasse in un incisore del legno. In questa mostra per chiudere anche un po' su questa figura abbiamo avuto anche l'opportunità di presentare una nuova scoperta su questo artista ancora poco noto ma del quale ci si augura appunto proseguire su quale ci si augura che possano proseguire gli studi. Mi riferisco e qui ritorno anche all'apertura della mia presentazione al collegamento che questo artista ebbe con la città di Bergamo. Infatti è stato recentemente riscoperto un pannello conservato nell'abside di fronte al coro della chiesa intitolata ai Santi Stefano e Bartolomeo di Bergamo proprio sotto i piedi della celebre pala martinengo di Lorenzo Lotto rappresentante la benedizione dei fanciulli e anche in questo caso si tratta di un pannello firmato che mostra una modalità esecutiva simile ai nostri pannelli e quelli della collezione di carate ebrianza che citavo poco prima anche in questo caso firmati e in questo caso però il modello di riferimento è quello di un altro pittore. Giuseppe Diotti anche in questo caso un celebre pittore in particolar modo riferendosi alla fresco che Diotti realizzò tra il 1833 e il 1834 per il Duomo di Cremona ma che si può pensare che lo stesso Luigi vide non tanto attraverso l'originale ma grazie ad un disegno al cartone preparatorio che attualmente è conservato presso l'Accademia Carrara di Bergamo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento.